Topitti c'è stato un disguido, c'è stato un documento a firma di tanti commercianti ma lei ha lamentato il fatto di essersi ritrovato tra i firmatari a sua insaputa. Come sono andate le cose? Quel documento pubblicato lì, al momento della lettura pubblica ne ho avuto conoscenza ma non avendo partecipato a nessuna riunione e nessuno mai mi ha telefonato nei giorni precedenti che c'era intenzione di fare questo documento. Successivamente nessuno mi ha saputo mai spiegare come il mio nome sia stato inserito insieme a tanti altri firmatari. Nello stesso tempo mi sono attivato poi a capire come mai ci fosse stato questo endorsement, questa richiesta nei confronti del sindaco ed è venuto fuori da testimonianze concrete che l'ispiratore è stato il sindaco stesso a fronte di tante difficoltà che ha avuto con la sua ex maggioranza all'interno del Consiglio Comunale dalla quale più che azzoppato, cosiddetto, parafrasando il discorso della ana tra zoppa, mi pare che sia stato gambizzato, abbia chiesto ad alcuni commercianti del centro storico, in particolare dell'area aderente all'area di centro-destra, di fare questo documento a modo di sponda per far sì che gli desse l'opportunità poi di acclarare che essendo così richiesto dai operatori del settore del commercio, da tanti cittadini, come poi è successo, perché poi c'è stata anche una richiesta, pare, anche dalla Convindusci, con un documento molto più scarno e sintetico e senza firme, voglio ribadire, però questa cosa c'è stata pubblica. Nella giornata dell'altro ieri c'è stata così la risposta di Brucchi che siccome i cittadini, tanti cittadini me lo chiedono, gli operatori economici e commerciali del territorio, del settore produttivo me lo chiedono, mi attiverò al massimo per ricostruire una maggioranza dal comune di Tero. Io personalmente tengo a dire che se Brucchi ha le capacità di ricostruire una maggioranza, ben venga, a partire dalle appartenenze politiche.